Ciao, benvenuti in questo nuovo video. L'argomento che avete già letto dal titolo, ovvero la differenza tra insulina rapida e insulina lenta, chiamata anche basale. Le differenze le vediamo subito dopo, averti ricordato che io e Michele Emanuele, sono studente di medicina alla fine del terzo anno, spero di laurearmi prima o poi. Sono diabetico da più di 15 anni e ho fatto anche agonismo per molti molti anni. Sul canale per trovare una serie di informazioni, una serie di video che ti spiegano come gestire il diabete, come mantenere sotto controllo le tue glicemie, come migliorare la tua aderenza alla terapia, il diabete e lo sport, come organizzarsi, come gestirlo, ma anche ad esempio informazioni riguardanti le tecnologie del diabete, come ad esempio possono essere sensori. Questo video comunque, come potete immaginare, sarà rivolto alle persone che hanno ricevuto una recente diagnosi di diabete e hanno bisogno magari di un video che possa spiegare brevemente le differenze. E sarà comunque breve questo video. Quello che vi voglio dire è come funziona l'insulina, senza adentrarci in tutti i mecanismi dei recettori tirosinchinaseci, in che modo attivano la trasmissione del segnale intracellulare che porta all'abbassamento della glicemia, che non penso vi interessi, ma il mio professore di farmacologia lo vuole sapere. Semplicemente fare un breve assunto di che cosa è l'insulina. L'insulina è un ormone, viene prodotto le cellule beta delle isoe di Langeras, nel pancreas. Queste cellule beta sono una popolazione cellulare volta alla produzione di questo ormone, ovvero l'insulina. Che cosa fa l'insulina? L'insulina è l'ormone antagonista del glucagone e ha il compito quindi di ribilanciare insieme al glucagone i livelli di glicemia, con un meccanismo che viene detto meccanismo feedback negativo, ovvero se la glicemia avalta il corpo tramite i recettori percepisce che si è alzata, questo è l'individuo sano ovviamente, per cui rilascia l'insulina, viceversa se l'individuo sano il corpo percepisce che la glicemia è andata troppo bassa, rilascia il glucagone per cui la glicemia viene ristabilizzata. Questo è il meccanismo con cui normalmente funziona l'insulina. L'insulina è rapida e l'insulina è lenta. Perché sono due tipi di insulina? Innanzitutto distinguiamo cosa è la rapida da cosa è la lenta. La rapida si tratta di insulina quella che noi facciamo prima di ogni pasto, ha un effetto a breve termine, ha una durata che può essere di 2 ore, 2 ore e mezza, per cui copre il periodo dopo i pasti, motivo per cui ci viene ricordato di misurare la glicemia 2 ore dopo i pasti, 3 ore dopo i pasti. Ad esempio se uno mangia a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, sarebbe corretto misurarle 3-3, mezza, sempre per mantenere quindi un controllo glicemico ottimale. L'insulina lenta invece, sebbene non si sostituisca l'insulina rapida, ma possiamo vedere l'importanza della sua azione specie in soggetti che hanno, o meglio, non è che dopo non diventi più utile e che è più facile avere il risultato, in soggetti che hanno ricevuto una recente diagnosi di diabete tipo 1 e sono quindi in una fase che viene chiamata ancora l'una di miele. Perché? Questo perché in alcuni soggetti, specie se piccoli, tipo a me quando è stato diagnosticato, che avevo 5 anni e mezzo, tra l'altro potete vedere il video, ve lo lascio in alto a destra, nelle schede di quando mi hanno fatto la diagnosi di diabete, quando è stato diagnosticato il corpo continua comunque a produrre una quantità minore di insulina, ma una parte continua a produrla, per cui in realtà le quantità di rapide sono molto basse, quelle che si fanno, e è più importante invece la quantità di basale. Faccio un esempio, io all'epoca facevo 1 unità, 1 unità e mezza per pasto, arrivando magari a 5 unità di rapida in tutta la giornata, e facevo ad esempio 12, 13, 14 unità di basale invece la mattina, perché in quel periodo lì la facevo la mattina. Ora di basale faccio 32 unità, nel tempo le quantità di insulina sono aumentate, poi la quantità di insulina corretta che si fa dovrebbe essere 0,8 unità per kg di peso corporeo, se non mi sbaglio non dovrebbe avere una cavolata, e quella della quantità di insulina corretta che uno dovrebbe assumere durante la giornata. Dicevo comunque l'insulina basale, quindi è un'insulina che copre tutti i momenti della giornata. Ad esempio io dopo più di 15 anni che mi è stata fatta la diagnosi di diabete, il mio pancreas non produce più insulina, per cui questo mi permette ad esempio se devo spizzicare mezzo biscotto, evitare di fare l'insulina rapida sostanzialmente, e evitare che ci siano picchi improvvisi durante la giornata, ad esempio dovuto all'azione degli ormoni. Questo significa che sempre ci riesce l'insulina basale, ce ne sono anche diversi tipi di alcune, tra virgolette, più forti, alcune un po' meno forti, però sostanzialmente l'obiettivo sarebbe questo. L'insulina lenta si può fare sia la mattina, prima della colazione, oppure prima di andare a lette, ad esempio come dicevo prima la facevo, prima intendo qualche anno dopo la diagnosi, fino a 12-13 anni penso che la facessi la mattina, prima della colazione sulla coscia, adesso la faccio sulla coscia, prima di andare a dormire verso le 10-10 e mezzo. Come dicevo è stato un breve video, è stato un video molto rapido, è stato un breve video dove c'è un piccolo riassunto, per chi ha appena avuto una diagnosi di diabete, per spiegare un attimo come usare uno e cos'è l'altro, ti consiglio comunque di per avere le maggiori informazioni, di consultare comunque sempre il tuo diabetologo, ti ricordo che sul canale puoi trovare comunque una serie di informazioni riguardante il diabete, per gestire meglio la tua terapia, capire quindi come avere le glicemia più corrette, il diabete e lo sport, io ho fatto agonismo, e ho fatto un anno come ciclista professionista, nonostante il diabete, e sono stato anche campione italiano, per cui si può fare sport, e non ci sono alcune limitazioni per quella che è la vita di un ragazzo diabetico. Io ti ho detto tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, ma prima di raccogli lasciare un mi piace, un commento e di iscriverti nel canale. Ciao!